Ciao a tutti ragazzi e come qui ritornati Mi scuso subito, mi ha salvato una parte della storia In cui praticamente Naruto e un po' di gente combattivano contro il Dekakoda Però Cioè durava anche molto, oltre i 15 minuti col pezzo Praticamente lo vorremmo io Naruto e company combattono contro il Dekakoda per cercare di fermarlo Ecco qua adesso cosa succede Ecco il Dekakoda Che si è evoluto nel frattempo Praticamente ha tirato una sfera contro il quale di Tergenerale dove c'era il padre di Shigamaru Osoかった? No Pittari da sei,父ちゃん Mi noto Ai kawarra zuha yoi no Grazie a tutti! Sì, tutti conoscono anche noi, anche quella di un po' di pochettino! Perchè mezzo con Rinnegan, mezzo con lo Sharingan? C'è rimasto malissimo Alla prossima Grazie è Sakura? no... e cosa? Volevo dire che è Sazke? Ecco! Va male a fare qualcosa! E... ma come? Si è Sazke... Chi è qui? Vi ci sono molto, ma... Mi ho deciso di proteggere la terra di Konoha e... Mi... ...dia... ...dia... E qui li dica con Naruto E qui lo dico Sassuke Lo dico Lo dico E qui 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 Non killing Allora E qui E qui Alla prossima, andando a tutti i nostri spettati. Ma... Questo è già finito. Per oggi... Io anche! Ok... Sakura! Pensi che non arrivi a tutti i nostri? Ok! Il 7. Siamo qui! E' il mio figlio! Andiamo, Sakura, Sasuke! Oh! Il mio figlio! Il mio figlio! Io devo fare il mio figlio in un'altra parte! E' il mio figlio! E' il mio figlio! E' il mio figlio! Andiamo! E' il mio figlio! E' il mio figlio! E' il mio figlio! E' il mio figlio! Oh, è il mio figlio! Ah, bastard está! E' il mio figlio! Chi è? Dopo 6 minuti Ho pure il tempo Mezz'ora Quanto è lunga sta missione Administratore All right Faccio Grazie a tutti. Ma si no ti sto a mezzo millimetro non attaccarmi mi raccomando. Ma si no ti sto a mezzo millimetro non attaccarmi mi raccomando. Grazie. Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Grazie a tutti. 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 combattimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.